benvenuti a tutti a questo mio nuovo video oggi andiamo avanti con la rubrica novità dell'on video italiano degli anime e appunto andremo a vedere quello che sono le uscite dei prossimi mesi incominciamo con un articolo che già uscito ovvero la trilogia dei film lupen terzo di takeshi koike uscita se mi sbaglio da almeno due settimane se mi sbaglio è uscito il 14 mi sembra di ricordare si tratta di una edizione limitata se mi sbaglio mille pezzi con card e tre bucle 32 pagine un'edizione da collezione con un prezzo né troppo alto né troppo basso abbastanza standard ma questo è già uscito quindi non ti diciamo cioè andiamo avanti andiamo avanti con le uscite coach media di ottobre e vedremo il secondo cofanetto di lupen terzo di lupen terzo la terza serie e i dvd e con i nuovi episodi di carletto andiamo avanti con eagle pictures che ha annunciato che porterà alcuni film di satoshi con in blu ray nella fatti specie tokyo god faders che questo si tratterà della prima volta viene pubblicato in blu ray e invece paprika che era già stato pubblicato in passato sempre in blu ray da sony nel più nel dettaglio osserviamo appunto i due cofanetti si tratta di cofanetti anche abbastanza carini non è non è fatto di plastica e il prezzo comunque non è neanche alto quindi quindi bene bene anche paprika tra l'altro la stessa copertina del blu ray della sony cioè nulla di diverso anche qui stesso prezzo poi il 3 novembre esce il cofanetto economico della seconda stagione di maiero accademia sarà sicuramente il classico cofanetto in linea con quello della terza e con quello della quarta economico e niente per chi non per chi non vuole spendere i soldi il costo che ha i due i due cofanetti limitati potrà avere questa opzione poi il 14 ottobre esce uscirà la prima serie di netflix in un video in italia per la prima volta una serie netflix a quota appunto in un video vero questa la trilogia di godzilla approderà però con un doppiaggio inedito perché infatti la serie non presenterà il doppiaggio di netflix ovvero un doppiaggio rifatto da coach media stessa anche qui si tratta di un'edizione limitata mille copie tra l'altro come edizione la stessa cosa che potevo dire anche prima di lupen come edizione ricorda tantissimo molte edizioni un video tedeschi cioè con una sola coperta e i blu ray messi nei singoli amarei come anche in questo caso è tra l'altro anche anche qui tre buclette da 30 pagine ciascuno insomma è una buona edizione e il vabbè il prezzo anche quello è abbastanza standard poi a 9 il 24 novembre lo stessa giornata in cui uscirà la limited di evangelion uscirà anche il più il cofanetto della prima parte della quarta stagione dell'attacco di giganti ecco qua c'è una stranezza ovvero costa era 10 euro in più perché di solito questo tipo di cose costa 50 euro di listino invece qua l'attacco di giganti verrà a costare 10 euro in più per carità non è uno scandalo però a me questi 10 euro in più mi hanno un po' dato fastidio cioè sono un po' strani dai sono veramente molto strani comunque si uscirà tra l'altro a me la copertina piace anche parecchio non vedo l'ora di averlo anche se non lo prenderò sicuramente al day one poi tra l'altro l'edizione sarà la classica come quelle della terza stagione quindi diciamo solite cose in ultimo le vediamo un po' più di dettagli del on video di l'amore di di nu yasha come avevo già detto in passato si tratta di un free space però che appunto non è che era una via di mezzo tra edizione economica e premium si tratta del classico fanetto con amarei e strava coperta e qualche contenuto extra in più fisico quindi booklet e cartoline il prezzo è di 70 euro come avevamo detto all'epoca non è del tutto male visto che comunque contiene 60 episodi se non mi sbaglio cioè più o meno il contenuto è quello detto questo iscrivetevi lasciate un like se vi è piaciuto commentate cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video grazie